e cari toro i pianeti a vostro favore sono non pochi adesso c'è anche mercurio quindi potete spedire il vostro curriculum con la speranza che capiti proprio nelle mani giuste ogni tipo di attività soprattutto quella commerciale o quelle legate al mondo della comunicazione sono favoritissime in modo particolare martedì mercoledì sabato e domenica quindi un po tutto l'aspetto pratico della vostra vita quotidiana che riceve input astrali più che favorevoli da mettere a frutto certo se andiamo un po a guardare questa venere che non è proprio così tanto amica degli affari di cuore ma relativamente perché poi voi riuscite sempre ad affascinare perché voi siete figli solitamente figli di venere voi siete e quindi insomma il minimo sindacale di fornicazione dovrebbe scapparci e anche di coccole